E io ho detto che il numero 60, lei è il sessantesimo allenatore del Bari, le piace come le piace il numero 17 perché oggi è anche 16. Sì, sono superstizioso, essendo meridionale sono superstizioso, però preferisco il 17 al 13. A proposito invece della squadra, lei ha detto un mix di giovani ma non solo ma soprattutto legati allo spirito di sacrificio. Senz'altro, è quello che poi piace a tutti i tifosi, cioè vedere una squadra che corre, lotta, che fa un calcio propositivo, un calcio aggressivo, che quando esci dal campo hai dato tutto, credo che dal nord al sud piace a tutti i tifosi, vedere uscire la propria squadra quando ha dato veramente tutto, tutto intendo l'anima. Perché ha preferito Bari ad altre squadre? L'ho già detto perché penso che a Bari si possa far bene, perché è una piazza importante, è una piazza che mi stimola, io ho grande entusiasmo e grande motivazione. Altrettanto voglio da chi viene al Bari o chi rimane al Bari, con questo spirito io penso che si può fare tanto per trascinare poi i nostri tifosi allo stadio e sostenerci.